Grazie a tutti Sfortunati ma l'unica cosa per migliorare questo è lavorare Quelli che sono fortunati e squalificati sono sempre dentro lo scuolatorio per dare sostegno alla squadra Quindi a noi che ci tocca giocare sappiamo che dobbiamo dare il massimo e fare il nostro meglio per andare avanti Ti chiedo senza dirci cosa vi chiede allo specifico allenatore Però nei movimenti, nelle scelte che stanno maturando in questa settimana È cambiato qualcosa per la difesa oppure avete ripreso il lavoro delle prese di tutti i settimane? No, poco, poco perché il mister è arrivato questa settimana quindi ancora non è avuto tanto tempo per lavorare Ma noi sappiamo che questa domenica dobbiamo vincere Non serve nessun altro Quindi noi i pensori dobbiamo difendere e poi quando abbiamo palla cercare di avere possesso e attaccare gli avversari Senti Alexis, se vogliamo chiederti di considerare le tante assenze che ci saranno in difesa domenica Con chi pensi di poter fare coppia secondo te? Insomma da quello che hai venuto a vedere in questi giorni? Io penso che forse è Diomber perché non c'è un altro Lui sta lavorando bene È forte, veloce Quindi io penso che farà un'ultima prestazione Il fatto di ritrovarti immediatamente gettato nella mischia dal primo minuto Tra l'altro a dover comandare la difesa In quanto un uomo con più esperienza Considerato che nel senso che ci saranno Ti pensa o comunque ti riempie il gollo Potrebbe essere uno stimolo di più? No, la verità è che mi sento bene Cercherò di dare il massimo, parlare, aiutare a quelli che sono più piccoli di me Gioca davanti a noi, gioca al Miron che mi ha contato l'esperienza Mirà che ha giocato quasi tutte le partite Quindi io penso che la squadra andrà avanti Senti, tu con Marano non giocavi tantissimo Qual è il tuo rapporto con l'ex tecnico di Catania? Cosa ti senti di dire? No, il mio rapporto è stato sempre buono Lui è stato sempre molto sincero con me Quindi io ringrazio per questo E abbiamo avuto il meglio di lui Io mi aspetto quello che mi aspettavo quando sono venuto qui Giocare, avere continuità e trovare il ritmo E quali sono state le mie impressioni sul gioco di Mr. Precato? Che differenze hai rispetto a Marano? No, abbiamo fatto qualche lavoro che con Marano non l'avevamo fatto Ma il modulo è lo stesso Quindi ancora non ha cambiato tanto Mi credo che invece del Sassuolo Che dipingono come una squadra Un po' più tebile delle altre In realtà in una presa stampa Un nuovo allenatore E invece ci sarà la partita più difficile Ecco, fermiamci su questo punto La partita più difficile perché Giocate in casa Perché arrivate ad una sconfitta Perché arrivate ad un campo di allenatore Ecco Tutte queste difficoltà Si possono trasformare in energia positiva Per contare che domenica andate in campo E fate come è che può essere in questo momento la partita perfetta C'è la carica, c'è la motivazione C'è anche la rapida per la partita per se In questo periodo Noi in Catania Ci possiamo permettere di dire Che c'è una squadra più debole di noi Sappiamo che abbiamo giocatori forti Ma ancora in campo non l'abbiamo fatto vedere Quindi l'unica cosa che possiamo fare E' entrare in campo Dare il massimo E cercare di vincere questa partita Senti, tu hai vissuto anche la stagione scorsa Che chiaramente è iniziata in maniera differente Da quella di quest'anno Secondo te cos'è che non ha funzionato In questi inizi di campionato? La verità Non so Forse Sono arrivati Tanti giocatori nuovi Ma Sarebbe Una scusa dire questo Perché Sono tutti Tutti forti Siamo grandi Quindi Non so che è successo Quanto potrebbe essere importante E ottenere un risultato positivo Domenica contro il Sassuolo In vista del doppio impegno Poi in traserta Contro i reti del Senato Tanto Tanto perché Noi in questo momento Siamo Così così Nel scogliatorio Perché sappiamo che Le cose così non vanno bene Ma penso che La squadra Sa Che deve Deve cambiare Deve andare avanti Quindi penso che questa domenica Si verrà qualche cambio Mi chiedo anche Cosa ti aspetti dal pubblico Domenica Che sarà un po' arrabbiato Però Nel stesso tempo In Catania Dice Non possiamo Andare con Giulia adesso Quindi Magari sperate Un'ennesima Ancora di amore Da parte loro Noi Per certe Noi sappiamo Come funziona Questo Dei tifosi Io li capisco Ma Chiedo Sostegno Perché In questo momento Io mi sono pure di loro Una cosa Velocissima Sugli attaccanti Del Sassuono Che Per il gioco Che fa di Francesco Doveva essere Molto veloce A perdire la palla E in questo senso È meglio Aspettare Di giocare D'anticipo Prenderli fuori All'area Cosa pensi Di voi De l'allenatore All'anticipo Sì Sarà Sarà L'allenatore A dirlo Ma Io penso Che Essere Sempre vicino Cercare Di Essere Vicino a lui Sempre Cercare Di Quando si può Andare Su l'anticipo Qual è L'attaccante Che temi di Tu Nel Sassuono Tutti Tutti Perché Una difesa Nuova Come La di questa Domenica Doveviamo Essere concentrati 90 minuti Quindi Un diposto Io Un'altra cosa Sulla difesa È un'ipotesi Perché Già Si è verificata In altre partite Dovesse giocare X con il passo Cioè In linea Con voi Quasi È un adattamento Però Ti dà Aiuto Perché Esperienza Perché Il passo Non uscire Riesce A recuperare Sarebbe Un aiuto In più Per voi Visto che Comunque Ha più esperienza In Italia Rispetto a te A chi ho Per Non so Se ce la Non so Ti dà Ancora Non so Come Le 11 Sento Essere Così Sì Sì Penso Che Lui L'ha fatto Per quelle partite L'ha fatto Bene Ma come Saperisce Perché È uno Che ha Tanta esperienza Ha Rambe Quindi È un giocatore Non più importante Senti Hai detto Che temi Tutti gli attaccanti Del Sassuolo Alla stessa Maniera L'arri Chiedo Cosa temi Invece Di questa Difesa Inelica No Non ho detto Di temere Ho detto Che Dobbiamo Essere Attenti Concentrati E Noi Se facciamo Questo Penso Che Faremo Bene Quindi Questo È Quello Che Dobbiamo Fare Essere Attenti Concentrati Ok Grazie